Te Vincenzo, grazie ad Agnes e da Len e soprattutto ringrazio il padrone di casa e il sindaco e l'onorevole Ciglis e saluto un po' tutti gli amici oramai di vecchia e vecchissima data. Grazie anche a mia moglie oramai ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Sì, in effetti io do un contributo su un aspetto abbastanza piccolo dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda il progetto di Pietragalla, però mi occupo di una componente abbastanza ingombrante che è quella appunto della componente forestale che rappresenta da un certo punto di vista un aspetto fondamentale per la valorizzazione dal punto di vista paesaggistico, ma da un punto di vista archeologico ovviamente rappresenta sia un ostacolo ma per alcuni aspetti come vedremo può rappresentare anche uno strumento di difesa del sito in generale. Quindi partendo un po' da quelli che sono gli aspetti prettamente forestali, ci troviamo di fronte a un popolamento che non è altro che un querceto misto, molto diffuso, anzi è la classe forestale più diffusa a livello regionale, che quindi è un popolamento termofilo con cerro e roverella prevalenti, ma ci sono poi tutta una serie di altre specie eliofile come ad esempio l'acero oppure l'olmo, l'orniello, piuttosto che il crategus che rappresenta una delle componenti arbustive più difficili per quanto riguarda la gestione poi delle attività di campo, le attività archeologiche di indagine di campo. La componente forestale ovviamente va interpretata dal punto di vista gestionale, perché si tratta innanzitutto di popolamenti da sempre utilizzati a ceduo semplice, matricinato, che in alcune fasi adesso si trovano, da un punto di vista gestionale, si trovano sotto forma di ceduo invecchiati, quindi di popolamenti destinati ad evolversi ad una fustaia matura, ad un alto fusto, quindi un bosco maturo, però in generale sono accomunati questi popolamenti che sono poi frammentati in diverse proprietà dal punto di vista della proprietà privata, sono accomunati dall'assenza di una vera e propria pianificazione forestale, quindi si è proceduto negli anni a utilizzare semplicemente i ceduli matricinati che si presentano in questo modo, un ceduo abbastanza rado, che alterna delle aree a maggiore fertilità del suolo, quindi con una maggiore densità, a maggiore provvigione, anche dal punto di vista della biomassa presente all'interno del territorio forestale, oppure quello che è il ceduo invecchiato, cioè dei vecchi cedui con dei polloni oramai cresciuti che si stanno evolvendo verso l'alto fusto, quindi verso il bosco classico, una fustaia matura di un querceto come può essere una cerreta, oppure un querceto misto. Appunto la gestione è stata negli anni molto disomogenea dovuta appunto alla frammentazione della proprietà e si è proceduto con il taglio dei cedui oppure con il classico taglio dei dei cento quintali, quindi per uso familiare, che adesso dal 2019 è stato aggiornato e quindi non si parla più di cento quintali ma di 15 metri cubi. Cambia poco, quello che è rimasto invariato è il fatto che basta una piccola istanza, una semplice istanza di taglio per poter accedere e prelevare del materiale, quindi procedere al taglio dei materiali per far bisogno familiare. Questo da un punto di vista gestionale è un approccio abbastanza dannoso per quanto riguarda la struttura del popolamento forestale, proprio perché si opera con un taglio non realizzato all'interno di una pianificazione forestale e quindi anche la gestione del popolamento nel tempo diventa disomogenea e quindi è difficile poi ricostruire una struttura forestale tale da poter convivere, tra virgolette, con un sito archeologico di grande pregio e valore come quello che stiamo studiando, che state appunto studiando. Quali sono le problematiche in generale legate alla presenza del soprassuolo forestale. Il soprassuolo forestale noi spesso lo vediamo come qualcosa di statico, un paesaggio statico, una cartolina, un'immagine che ci viene in mente, ma di fatto è un ecosistema estremamente dinamico che è soggetto a disturbi sia antropici che naturali che ne cambiano continuamente la forma. E quindi nel tempo ci sono una serie di processi di espansione e di ricolonizzazione forestale che permettono l'espansione del bosco in aree prima utilizzate dall'uomo per altri fini, come ad esempio il pascolo o piuttosto che i seminativi. E nelle aree interne della nostra regione, in quelle aree cosiddette marginali, dove appunto l'agricoltura, quella agricoltura, quella poco meccanizzata, nelle aree con la maggiore pendenza, è stata nel tempo abbandonata dalle vecchie generazioni dei contadini, lì il bosco comincia ad espandersi e riconquista i suoi territori. E un altro, ad esempio andando a guardare, non c'è bisogno di scomodare delle analisi particolarmente raffinate come quelle che abbiamo visto, ma ad esempio guardando la componente forestale, basta andare su, basta dare un'occhiata su Google Earth per vedere come si evolve la copertura e negli anni, partendo dal 2001 al 2011, vediamo come cambia la copertura, come man mano si estende e come di volta in volta intervengono delle aree, delle particelle, in cui si nota appunto la particella, la classica particella catastale, quindi la singola proprietà che viene tagliata qui al centro e vediamo ad esempio la matricinatura del cedulo, cioè il rilascio delle matricine di piante che daranno poi il seme e le nuove ceppaie per la rinnovazione del bosco cedulo. E quindi dal 2011 poi la situazione si evolve, si vede in quelle stesse particelle la ricrescita del bosco e il taglio in altre particelle e così via fino al 2016, fino a quello che è stato un evento abbastanza traumatico da un punto di vista ambientale, come quello dell'incendio del 2017. Qui notiamo appunto la cosiddetta fire scar, cioè la cicatrice del fuoco che resta sulla vegetazione. Ora questa immagine è possibile notare come l'incendio partito in basso qui dalla foto si sia propagato lungo tutta l'area di Monte Torretta e abbia interessato in maniera molto forte dal punto di vista dell'intensità del fuoco le aree arbustive, dove appunto la componente arbustiva era maggiore. E poi piano piano si è impattato verso la copertura forestale vera e propria, il bosco vera e propria e lì in qualche modo il fuoco ha perso di intensità. Quindi da questo punto di vista, in queste condizioni, la presenza del bosco rappresenta quasi una difesa nei confronti del fuoco, dell'espansione del fuoco. Questo perché appunto ci sono delle... questo perché appunto i materiali e la grandezza dei materiali legnosi della biomassa, quindi i fusti degli arbri hanno dimensioni tali da rendere necessario un'elevata intensità del fuoco, un'elevata permanenza del fuoco e quindi risultano in qualche modo più resistenti al passaggio del fuoco. E quindi qui, in queste condizioni, il fuoco si trasforma da quello che è un incendio di chioma, si trasforma in un incendio radente, cioè un incendio che prosegue sul suolo e con una con una minore intensità, lasciando poi il bosco intatto, almeno per alcune condizioni. Questo lo vedremo poi anche nelle immagini più avanti. Infatti, guardando un po', facendo un'analisi, dal punto di vista spettrale, di quello che è un indice per l'indicazione della severità del fuoco, come il delta NBR, vediamo per l'area di Monte Torretta come vi siano diverse aree, a diverse intensità di severità del fuoco, dove appunto la presenza del bosco in qualche modo ha limitato, ha ridotto quella che la severità del fuoco rispetto alle aree coperte da arbusti. E gli effetti del fuoco sulle piante sono appunto queste, cioè dei danni alla corteccia, al colletto della pianta, possiamo vedere anche l'altezza delle fiamme, da queste immagini è possibile individuare anche l'altezza delle fiamme. E nelle aree più infraaperte, dove c'era, dove era maggiore la presenza di arbusti, il fuoco a maggiore severità ha interessato anche le chiome. Quindi in quel caso c'è stato un incendio di chioma che ha distrutto l'intera pianta. Però per il resto, all'interno del bosco, il passaggio del fuoco, lo notiamo in questa immagine, ha interessato, ha annerito, è vero che ha annerito i fusti, però la corteccia degli alberi ha creato una sorta di protezione per le parti vitali del cambio appunto della pianta e quindi le piante sono sopravvissute. La copertura del bosco, però la copertura densa delle chiome, impedisce la presenza di arbusti all'interno del soprassuolo forestale, quindi riduce la presenza di arbusti all'interno del soprassuolo forestale e riduce di fatto anche la quantità di combustibile presente. Quindi il fuoco passa in maniera radente, superficiale, senza creare grossi danni all'ecosistema. Ed è da questo punto di vista che il fuoco viene anche definito un elemento, un fattore ecologico, proprio perché in qualche modo interagisce con l'ambiente senza danneggiarlo in maniera drammatica, quindi in maniera irreversibile e ne plasma un po' la struttura. Per quanto riguarda l'area appunto delle interazioni del bosco con l'area archeologica in particolare e con le strutture archeologiche, a parte la fatica di dover ripulire ogni anno il sito per potervi entrare. In effetti voi da questo punto di vista siete stati particolarmente sfortunati, perché proprio nelle aree a maggiore intensità del fuoco del 2017, quello che avviene normalmente dopo un incendio è un'invasione di vegetazione sia erbacea che arbustiva, che provando appunto campo libero, quindi non avendo una copertura delle chiome, quindi avendo irraggiamento da parte del sole, hanno la possibilità di affermarsi e di propagarsi in maniera molto rapida. E quindi il fuoco in queste aree, il fuoco di elevata intensità, lascia poi negli anni un terreno ricoperto soprattutto da arbusti, di quello che è successo anche nel vostro caso. Ma le interazioni appunto della vegetazione con le strutture muriarie, con le opere murarie, è sotto gli occhi di tutti, insomma gli apparati radicali, ma anche il ricaccio dei polloni tendono a propagarsi all'interno delle opere murarie e quindi tendono a smuovere tutti gli elementi costruttivi. In questo caso quello che avete fatto voi è stato quello di eliminare questi due polloni di questo cerro che si era insinuato all'interno delle mura e di fatto avete liberato dalla vegetazione il muro, ma già l'anno successivo da questi due polloni, proprio grazie alla capacità pollonifera di ricaccio appunto di questa specie, si sarà generato un nuovo cespuglio, quindi una serie di nuovi polloni che cresceranno e quindi tenderanno a creare, continueranno appunto a smuovere le opere murari. Quindi l'intervento sulla vegetazione è un intervento che va fatto caso per caso, e quindi va fatto in maniera molto accurata. In casi come questo l'ideale sarebbe proprio smontare alcuni dei blocchi e cercare di rimuovere quanto più possibile questa ceppaia che per natura continuerà a ricacciare i polloni, anzi più la tagliamo più stimoleremo la sua propensione al ricaccio di polloni. E quindi i risultati ovviamente della crescita degli alberi all'interno di questo sito sono sotto gli occhi di tutti, anche se da un punto di vista strutturale in alcuni casi potrebbero anche avere dei feedback positivi come questo, in cui vediamo che la pianta che è cresciuta in qualche modo ha abbracciato l'opera muraria trattenendola e consolidandola, tra virgolette, anche se poi con l'andare avanti del processo di crescita ha portato quindi alla rottura del muro, quindi a smontare un po', a spostare i blocchi dalla loro posizione originale. Quindi in questi casi ovviamente la valutazione della presenza delle singole piante sulle opere murarie va valutata caso per caso e quindi va individuato poi quello che è l'intervento più opportuno. Però dal punto di vista forestale diciamo quello che può essere il contributo da parte del mio gruppo di ricerca è quello di pensare a una gestione del soprassuolo forestale che sia funzionale alla fruizione dell'area, sia per quanto riguarda lo studio, ma anche per quanto riguarda le attività di ricerca e poi la fruizione dal punto di vista anche turistico del sito. E per questo quello che l'idea, l'approccio più indicato è quello di creare un piano particolareggiato di gestione forestale del sito. E questo lo si può fare facendo appunto delle specifiche misure di gestione. Un po' sulla falsariga di quello che è stato fatto per i siti Natura 2000 in Basilicata, che erano appunto delle misure di gestione proposte ad esempio per la salvaguardia della Bramea nell'area del Vulture, piuttosto che dell'abete bianco appenninico o delle orchidee presenti all'interno del nostro territorio. Quindi delle misure di gestione mirate a intervenire sul soprassuolo forestale rispettando appunto la convivenza con il sito archeologico. E in questo le tecnologie che abbiamo visto fino ad ora potrebbero darci un'ulteriore mano, cioè creare una mappatura 3D della copertura forestale utilizzando il laser scanner. Quindi a parte l'utilizzo del laser scanner per i rilievi delle opere, delle infrastrutture murarie, possiamo rilevare anche il, è possibile rilevare anche la componente forestale. Ed è un approccio questo dell'utilizzo del laser scanner all'interno del settore forestale che è stato utilizzato di recente, negli ultimi anni è stato utilizzato proprio per la caratterizzazione dal punto di vista strutturale dei popolamenti forestali. In questo caso ci potrebbe dare una mano proprio per creare una mappatura 3D. Quindi oltre a questo è possibile fare all'interno delle, all'interno di queste misure di gestione particolareggiate, creare appunto dei, creare un'integrazione dei dati strutturali con quella che è la mappa archeologica e anche quelle che sono le emergenze, così come abbiamo visto nelle precedenti presentazioni, di aree dove probabilmente vi sono delle infrastrutture. Quindi in questo modo noi possiamo già gestire il patrimonio forestale in funzione di futuri interventi di scavo e future esplorazioni dal punto di vista archeologico. E quindi qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è quello di creare un intervento di avviamento all'alto fusto del bosco, però finalizzato a ridurre la densità del popolamento nelle aree appunto con maggiore presenza di opere e di infrastrutture murarie, mantenendo massima la copertura del suolo. Proprio perché mantenendo la copertura del suolo dal punto di vista forestale, quindi mantenendo unite le chiome delle piante, in qualche modo si abbassa l'ingresso di altre specie arbustive che vanno poi a disturbare e a coprire uniformemente il suolo. Quindi bisogna trovare un po' un giusto equilibrio tra la presenza delle piante e la distribuzione delle aree, quindi fare delle aree archeologiche e quindi fare una pianificazione degli interventi di restauro forestale che viene detta appunto per piede d'albero, cioè per singola pianta lì dove è necessario. Dal punto di vista forestale ad esempio la tecnica del LIDAR è già ampiamente utilizzata proprio per individuare la struttura forestale, per individuare anche le provvigioni dei popolamenti forestali, quindi per pianificare la gestione forestale. Tutti i boschi del Trentino sono gestiti grazie a dei rilievi LIDAR e quindi mi unisco all'auspicio di avere a breve da parte della regione una mappatura, un rilievo LIDAR di buona risoluzione proprio anche per quanto riguarda il settore forestale perché ci offre una serie di contributi, di informazioni fondamentali sia per gli aggiornamenti della carta forestale ma anche proprio per la gestione appunto dei singoli popolamenti forestali. Ma quello che in questo caso si potrebbe fare utilizzando dei dati già acquisiti all'interno del, ovviamente non per tutta l'area ma per le aree a maggior interesse, a maggior rischio tra virgolette archeologico, è quello di utilizzare la tecnologia dell'ase scanner e quindi creare un modello 3D del popolamento, un modello virtuale del popolamento, sul quale poi poter intervenire con delle simulazioni di intervento di taglio e vedere quindi quello che potrebbe essere il risultato finale all'interno, per quanto riguarda la struttura del popolamento forestale. Ovviamente se avete delle domande è un'attività estremamente stimolante per quanto mi riguarda perché praticamente mi trovo a mettere un po' in discussione quelle che sono le mie conoscenze dal punto di vista ecologico, ecosistemico e anche gestionale dei popolamenti forestali nell'ottica di quelli che sono di un nuovo servizio ecosistemico perché appunto i boschi oramai noi li consideriamo e li gestiamo dal punto di vista della propria funzione ecosistemica e tra le diverse funzioni ecosistemiche possiamo aggiungere anche quello del paesaggistico per quanto riguarda la fruizione del patrimonio archeologico come in questo caso e quindi sarebbe veramente estremamente stimolante per me continuare a lavorare e contribuire al progetto di Pietragalla Project. Grazie a tutti!